Senza Senza Io ci direi Come si chiama Lo strato più esterno della terra Esosfera Mantello Nucleo Crosta Crosta Lo strato più esterno della terra Si chiama crosta Crosta Spessa 45 biometri Sotto i contenenti 7 chilometri sotto Io c'è Passo in avanti Per un accesso Che va in testa Va in testa Con 80 mila euro E cambi la prossima Pensiamo con Arne Arne Vale 10 mila euro Da quale stile Sono caratterizzate Le cattedrali Costruite da pugne Si, costruite da pugne E altri appuntiti Paleo-pistiano Romanico Dopo Dopo Neoclassico Dopo Eh, per sorridire Perché è Esiste sapere che Si speri, eh Ed è la risposta esatta Bravo Io c'è Mi lascio I'hai E' la scala E' la scala Storia 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 liberismo, ludismo, sandinismo, furbismo, non vorrei chiamare la nostra faccione ma direi il musismo.